Allora, oggi, 25 aprile 2021, giorno della liberazione, non poteva che esserci un collegamento con il nostro amico ecclesiastico per la casa del Gran D'Acello, ovvero Fra Ronni da Polverici, che proprio ci rappresenterà la liberazione di una chiara, con l'esorcismo. Vai, Fra Ronni! Fratelli e sorelli, sono il vostro Fra Ronni da Polverici, ed ora faremo l'esorcismo a Maiane, che è posseduto, e lo libereremo. E ora, finalmente, il maiale è libero. Qual è il mio modo per festeggiare la liberazione, con la liberazione di un maiale? Grazie.